Buongiorno a tutti, siamo qui in piazza Vittorio a Torino, una delle più grandi piazze d'Europa. Siamo ancora una volta qui per protestare e per chiedere al governo italiano di onorare gli impegni presi, di onorare gli impegni presi con i cittadini e con gli infermieri. Siamo qui con 10 camion, un treno di 100 metri che girerà per il centro della città, che girerà per i principali corsi della città, appunto per ricordare alle istituzioni che le promesse devono essere mantenute. Abbiamo iniziato come Nursing, la principale e più grande forza sindacale infermieristica in Italia, il 20 maggio con il primo flash mob in piazza Castello. Stiamo facendo flash mob nelle maggiori piazze italiane, Perugia, Milano, Genova, Trieste, Palermo, Bari. Stiamo in tutte le piazze per chiedere al governo di mantenere gli impegni presi. Oggi rilanciamo da Torino con questo treno, che girerà per il centro della città e sarà presente davanti a tutti i principali ospedali. Un treno che parte da Torino, ma che prende tutta l'Italia. Chiederemo al governo di rivedere la struttura contrattuale dell'infermiere, di rivedere i nostri stipendi, di rivedere le nostre indennità, di rivedere anche le norme che regolano il nostro contratto, perché tanti diritti per noi non sono esigibili. Partiamo da Torino, ma arriveremo anche a Roma, se non ci saranno risposte. Partiamo da Torino, ma arriveremo anche a Roma,